La partita dell'Italia l'ho vista qua in Inghilterra, a Brighton, a casa di amici tutti inglesi. Ero l'unico italiano con la mia magliettina azzura con scritto Italia e la bandiera tricolore, sono arrivato così per non farmi notare, e in mezzo a un gruppo di inglesi che ovviamente ti va in Inghilterra, perché l'Inghilterra è da sempre che non vince mai una mazza, erano tutti un po' sconsolati ma fiduciosi. In più ho visto lo speciale della BBC per un'ora, con tutte le sconfitte dell'Inghilterra negli anni, mi raccontavano appunto un po' tutte le vicissitudini che da tifosi hanno sempre subito, ne hanno subiti tutti i colori, poverini, e si aspettavano una vittoria, onestamente si aspettavano una vittoria, erano pronti a tripudiare a Wembley, Cos, la regina e tutto quanto. Totale, al secondo minuto, quando l'Inghilterra ha segnato, mi sono esplose completamente le orecchie, e ho pensato qua, non butta bene, e ho avuto una certa pressioncina addosso, fino a che Bonucci non ha pareggiato, grazie caro, e poi devo dire, Donna Rumma, non so, cioè io vengo anche a pulirti il cesso di casa, perché mi hai, come dire, dato un'emozione da tifoso ignorante di calcio, ma da italiano, che non saprei spiegare, il problema è che quando poi l'Italia ha vinto, io non potevo alzarmi in piedi alla fantozzi e urlare, capito, come un pazzo, perché sennò non uscivo vivo, per cui mi sono gentilmente alzato, ho detto, sorry, sorry, good match, it was 50-50, insomma, quelle frate che dici sempre, vado un secondo in bagno, ho detto, sono entrato in bagno, chiuso la porta, e andiamo, come on, e poi mi sono ricomposto e sono uscito, capito, con la mia bella magliettina e tricolore, che partita, però non è l'unica cosa, ecco, queste erano le riflessioni che vi volevo portare, l'Italia sta in un qualche modo rivivendo un momento magico nella mappa planetaria del percepito come brand, il brand Italia, la marca Italia, non il Made in Italy, proprio l'Italia, come la coolness, e questo si direbbe in gergo business sarolo, che vuol dire agourness, vuol dire che è vero che fino ad oggi, se tu parli con qualcuno della mia generazione, cinquantenni, ti dicono, ah sì, che bella l'Italia, si mangia bene, è bello andare in vacanza, roba romantica, Italian's doing better, quella roba lì, però, come dire, il resto fa schifo, questo è un po' il percepito, e soprattutto per tutta una serie di nuove generazioni, ma l'Italia dove stava? Ci sono dei modelli che sono per noi interessanti, modelli di riferimento, degli status di riferimento, o per noi che siamo italiani li valutiamo diversamente, ma quando vai all'estero ti rendi conto che il Made in Italy di molte cose si si piace, ma non è che la gente dica, ah il Made in Italy, no? Qual è la cosa interessante allora adesso? Che hai una serie di alfieri, di momenti, che scatenano un'ondata molto interessante per l'Italia, perché hai tutto il mondo del calcio, Mancini ad esempio è considerato Dio qui, Mancini is God, ok? Bene, quello lì, c'è l'hai tutto il mondo del calcio, l'abbiamo sempre avuto, però ogni tanto gli devi dare una rinfrescata, devi vincere, e questo è un ottimo, un ottimo proiettore rispetto all'Italia. Poi hai il mondo del tennis, nello stesso giorno vi ricordo che Berrettor era in finale a Wimbledon, match pazzesco contro Djokovic, che non so come cacchio faccia a giocare così quel signore lì, risponde a Berrettini che ha un servizio incredibile, un dritto che senti solo il rumore, e lui è ancora lì, capito, che la rema dentro, la giusta, un fenomeno, complimenti a Nole, ma complimenti a Matteo Berrettini, peraltro persona squisita, visto dall'esterno, si presenta molto bene, parla molto bene, complimenti. E non c'è solo lui, perché, lo sapete benissimo, c'è Yannick, che ho intervistato più volte, c'è Sinner, c'è Musetti, c'è Sonego, insomma c'è una bella batteria di giocatori, è un bel movimento, quindi hai il movimento tenistico. Poi hai un altro mondo interessante, che è la musica, i Manneskin, qui, se tu parli con le ragazzine, vanno fuori di testa per il cantante di Manneskin. Non eravamo abituati noi italiani ad avere cantanti italiani famosi all'estero. Ho intervistato l'altro giorno Neck, e certo uno può dire, magari Neck, La Pausini, Ramazzotti, diciamo, una fama planetaria, ecco, Pavarotti, però, diciamo, nella musica pop, rock, in questo caso, non abbiamo avuto delle band che sono riconosciute in modo planetario, e allora i Manneskin aprono un nuovo territorio. Peraltro aprono un nuovo territorio con un'onda di ritorno interessante, perché nel momento in cui fanno un'intervista con il Guardian, e dicono che i Marlene Kunz sono stati d'ispirazione, i fan dei Manneskin vanno a sentirsi anche Cristiano dei Marlene Kunz, con cui ho chiacchierato l'altro giorno, e si sentono tutto il loro repertorio, e si apre un mondo musicale italiano interessante, e ne abbiamo tanti di cantanti che sono forti e che possono scalare a livello internazionale. Poi, se da questo, gli aggiungi che abbiamo Draghi a livello di politica, questo dà un'immagine professionale, seria, fuori dall'Italia, Draghi è una persona ascoltata anche in Europa, e allora chiude un po' il cerchio di questa nuova Italia post-Covid. C'era il pre-Covid, come dire, il 2000 e il dopo 2000, il 1000 avanti Cristo e il 1000 dopo Cristo, è la stessa cosa. Qua c'è il pre-Covid e il post-Covid, siamo in durante Covid, adesso non so dove siamo, però è come se ci fosse un reset, è il nuovo giorno 1 per l'Italia, e in questo reset si riparte. Se la si gioca bene, la partita, beh, l'Italia fa veramente la differenza a questo punto. Soprattutto può fare la differenza anche a livello di comunicazione, cioè questa è la roba che io cavalcherei. Prendete il tiktoker secondo più famoso al mondo, è italiano. Altro caso interessante, vi ricordo che tiktok non sono solo i ragazzini, due terzi delle persone su tiktok hanno sopra i 25 anni. Che cosa farei, così la butto lì, Mario, if you're listening, this is my idea, vedi tu, se implementarlo o meno, oltre a sburocratizzare, che è il grande problema, c'è bisogno di meno burocrazia in Italia, perché se no è un casino per le aziende, non solo, però io farei una roba tipo mille per mille, un'operazione mille per mille, questa è la mia proposta. prenderei mille persone in Italia capaci sui social, che smanettano bene su tutte le piattaforme, e H24 notte e giorno bombarderei il pianeta del meglio di quello che stava uscendo dall'Italia. In tutti questi settori, adesso ve ne ho detti alcuni, ma poi ne abbiamo miliardi di altri, noi italiani siamo bravi a fare mille cose. Ne abbiamo mille altri, ecco vedete, mille altri, mille persone per i prossimi mille anni. Se tu prendi mille persone che martellano per i prossimi 36 mesi, notte e giorno, H24, H24, su tutte le piattaforme, e ti dicono, oh ragazzi, guarda, Italia, siamo qui, Italia, siamo qua, l'Italia è a posto per i prossimi mille anni, perché poi il percepito del brand Italia, chi te lo porta più via? Forza Azzurri.